Un chilo di eroina ancora da tagliare, recuperata e tre persone in manette. E l'esito dell'operazione è portata a termine dalla squadra mobile di Rimini. Nel carcere dei Casetti, gli arresti sono già stati convalidati, si trovano due tunisini di 32 e 30 anni ed un ivoriano di 45. Quest'ultimo, con regolare lavoro da saldatore, aveva dato ospitalità ai primi due nella sua mansarda in affitto di via Coletti. I tunisini si occupavano dello spaccio. Lo scorso mercoledì, dopo un lungo appostamento, la sezione narcotici ha fermato il 32enne, clandestino in Italia. che a bordo della sua bici elettrica si occupava della consegna delle dosi. Nascosti sul mezzo c'erano alcuni grammi di droga. Il ragazzo però non aveva le chiavi dell'appartamento e gli agenti sono stati costretti a contattare la proprietaria, anche lei senza chiavi. Mentre discutevano con lei, hanno però notato che dalla finestra dell'abitazione incriminata un uomo si arrampicava sul tetto e nei ridiscendeva con una borsa ed hanno quindi cercato di fare eruzione, tentativo reso vano dalla porta blindata. Nel frattempo, all'interno, l'uomo, il trentenne tunisino regolare in Italia, cercava di disfarsi della droga gettandola nel water. Una volta fatto, nel tentativo di prendere di sorpresa gli agenti, ha aperto di scatto il portone tentando inutilmente la fuga. La parte più complessa è stata recuperare l'eroina. Il grosso è stato trovato dagli operatori di iera subito chiamati nella vasca delle acque nere del condominio e l'altra distruggendo il water, di fatto intasato. In totale, un chilo di droga ancora da tagliare, che sarebbe triplicata sul mercato. Nell'appartamento sono stati trovati anche 1.500 euro e un'agenda con la contabilità. Quest'ultima si trovava nella stanza del cittadino della costa d'Avorio, che rincasato durante l'operazione aveva provato inizialmente a chiamarsi fuori dall'attività di spaccio per poi ritrattare incalzato dagli inquirenti.